James, James, dovresti... Io non vivrò mai più in una casa che puzza di cipolla! Io non mangerò sanguinaccio a colazione! Io non sarò mai più povera! Olivina, ti prego! Nessun ti prego! Ci servono molti soldi! Molti, molti soldi! Voglio dipinti! Voglio disegni per questa mostra del cazzo! Tu ora dipingerai, dipingerai e dipingerai! In questi tre giorni non farai altro a parte dipingere! Ora basta con le tue feste! Ora basta mascherate! Fuori le amichette galline! La mostra è fra tre giorni! Vai! Muoviti! Da lì... Desidera qualcosa? Non è stata meravigliosa la mia gala? Hai sentito le sue urla? Ha preso a schiaffi il capitano? Ha preso a calci mei con una furia? Con un fuoco! Non è arrabbiato da lì? Ispirato? Sono ispirato! Voi giovani sprovveduti credete che tutto ciò che occorre sia pace, amore e armonia? No! È la collera che ci rende forti! Le idee fresche sprizzano da un involucro di odio! Ora chiama Ginesta! Ginesta? Perché le ali d'angelo, quelle ali d'angelo che stanno in Vaticano io le ho create grazie al perfetto culo di una modella! Quindi chiama Ginesta! Cerca modelle e Amanda! Di anche a lei di venire! Voglio un mucchio di splendidi in culi! Grazie a tutti!